Ecco la versione ufficiale di Paola e contiene una contraddizione. I nomi che tutti vorrebbero sentire, lei e suo marito Angelo non li fanno perché non li ricordano. Ma prima, Paola ci dice che questi nomi non esistono perché non vorrebbe che qualcuno finisse nei guai. No, assolutamente, i nomi non esistono perché comunque tengo anche una coscienza. Non voglio per mano mia che le persone vadano a finire in galera o denunciate. Vadano e fanno indagini chi di competenza. Però hanno fatto qualcosa di disonesto, se fosse vero. Sì, ma io i nomi non mi li ricordo. E' questo che hai detto alla polizia? Sì, ho confermato che ho detto che mi hanno proposto soldi, buoni benzina, casa e alloggio. Quello sì, l'ho confermato. Poi mi hanno chiesto giustamente le generalità, ma io non le ricordo. Non ricordo i nomi perché erano talmente tanti, non li ricordo. Erano talmente tanti? Beh, insomma, non era uno. Erano più di uno. Ti hanno proposto, hai detto tu, ma tu li hai presi però questi soldi? Non li ho presi. Ho sbagliato l'intervista, ho sbagliato a dire, vabbè, momento di nervoso. Hai visto quella mattina che c'era? Momento di nervoso, mi hanno detto, ho detto che mi hanno presentato questi soldi. Mi hanno dato, ma io non ho preso mai nulla in mano. Confermano che in campagna elettorale qualcuno ha offerto loro denaro e buoni benzina e promesso anche una casa, ma non ricordano chi sia stato. Paola e Angelo sono stati ascoltati dalla polizia in questura come persone informate sui fatti. Le accuse che hanno fatto i nostri microfoni sono gravissime, voto di scambio. Il sindaco Paolo Perrone ha da subito invitato a fare i nomi. La federazione della sinistra ha presentato un esposto in procura. I politici di entrambi gli schieramenti hanno chiesto che la magistratura faccia luce sulla questione. Ma ora la giovane coppia dice di non ricordare. Anche se le accuse che ha mosso al momento dello sfratto sono precise, ci hanno dato 120 euro e 5 buoni benzina da 30 euro e promesso un alloggio e un lavoro per mio marito, non sono affatto circostanziate. Ma tant'è, il polverone è stato sollevato, in procura c'è un esposto e la macchina investigativa si è avviata. E ora è questo che dichiarano agli investigatori i coniugi che hanno occupato una casa popolare in via Don Giacomo Alberione. Una casa che il 30 ottobre dovranno lasciare. Non ricordano e quei soldi non li hanno mai presi e vogliono che l'attenzione torni sul problema più grosso che hanno. Comunque oltre il danno c'è la beffa. Qual è la beffa? E la beffa perché a posto invece di fare chiarezza sulla luce che riguarda il mio di problema, c'è lo sfratto e la casa, si stanno appellando sulla politica, sui politici, che a me discorso dei politici non mi interessa assolutamente. Però Paola lo sai che sono gravi le affermazioni che hai fatto, non potevano cadere nel vuoto. Certo, sono gravissime, ma io le ho fatte solo perché mi sono sentita raggirata da queste persone. perché se loro mi hanno promesso la casa e adesso ho bisogno della casa, perché non si stanno facendo vedere?